Bravo il Milan, bravo, bravo, bravo il Milan, mi si riproverà spesso di non fare video sul Milan, post Milan, che sono tardi alcune volte, però oggi, siccome faccio quello sulla Juve, faccio anche quello sul Milan, il Milan è vicinissimo agli ottavi di finale, deve fare la partita col Salisburgo, non deve semplicemente perdere con il Salisburgo, un pareggio, una vittoria, il Milan si qualifica per gli ottavi e se lo merita, se lo merita anche secondo me, perché mi ricordo la partita in Austria col Salisburgo, ha giocato meglio del Salisburgo, con lo Zagabria ha fatto tanti gol, sia dentro che fuori, con il Chelsea no, con il Chelsea, quella a Londra è stata la partita forse più brutta di tutta la stagione, in casa dopo c'è stata la confusione, vi ricordate il Ross, eccetera, eccetera, però tutto sommato il Milan ha dimostrato molto di essere molto superiore, sia allo Zagabria, sicuramente al Salisburgo, però dopo i punti li devi fare, partita senza storia, una vittoria senza storia, ma attenzione, c'è una piccola macchia, io seguivo una trasmissione televisiva e c'era un po' di sfotto, devo dirlo, su Decatelere, su Decatelere o come viene pronunciato, un po' di sfotto c'è, il Milan era superiore tanto a questo Zagabria, ma troppo, troppo più forte, perché quando hai giocatori come Hernández, Leao, lo stesso Tatarosano che è un portiere che a me ognuno si lamenta, ma a me piace, come portiere, dopo c'è giocatori come Kier, Tonali, nulla a che vedere con lo Zagabria, io mi aspettavo una partita garibaldina, da parte dello Zagabria, invece non c'è stata, se la metti sul piano del gioco, il Milan ti apparecchia una tavola che ti dà 4, 5, 6, 7 gol, Però in tutto questo è mancato Decatelere di nuovo, di nuovo, è una partita facile, è una partita dove effettivamente le differenze erano tante, vabbè, Decatelere è un giocatore su 24, quanto ne ha il Milan, 21, 22, quindi secondo me è vero, c'è troppa aspettativa per i soldi che sono stati spesi su questo giocatore, Ma secondo me il Milan non lo deve aspettare più, se il Milan è intelligente, a questo punto deve mettere i giocatori magari meglio crunici, meglio altri giocatori, ma non puntare su questo giocatore che secondo me, se magari fiorisce, non fiorisce adesso Il fatto che l'abbia tolto, il fatto che Pioli abbia tolto Decatelere è un segnale bruttino, perché già la partita era in pugno, è un segnale che secondo me questo allenatore si sta un po' stancando di questo giocatore, ci sta Io l'ho visto, io ho giocato a calcio, a certe volte ci sono giocatori che sono forti durante gli allenamenti, ti fanno belle cose, li vedi, dopo nella partita squagliano, praticamente non riescono a entrare in sintonia con la partita, non riescono a mettere quella voglia, sono un po'... E questi allenatori, davanti a questi giocatori, diventano proprio... non li sopportano Non lo so se sarà il caso del Milan, il Milan è un giorno... oggi è un giorno felice per Milan, perché il Milan, questo era difficile, poteva essere difficile una cosa del genere, adesso ha tutto in mano Ha tutto in mano il Milan, ha davvero una qualificazione che comunque se si qualifica agli ottavi, era un po' scontato dopo il sorteggio Dopo il sorteggio era un po' scontato, però ti devi sempre qualificare, e in effetti ancora non è finito, il Salisburgo potrebbe anche fare il colpaccio, quindi il Milan deve stare attento, attentissimo, giocare la migliore partita Ma io sono fiducioso che il Milan sicuramente schiaccerà il Salisburgo, 1-0, 2-0, una cosa del genere Il Milan non è stupido, non si presenterà lì a fare cazzate, non ne farà cazzate, farà la partita che deve fare Si porterà agli ottavi e dopo di che là può essere fortunato, incontrare una buona squadra, un Bruges, passare e andare più avanti La stessa cosa che spero per l'Inter, il sorteggio dopo è quello che ti dà tanto in mano Il sorteggio davvero è quello che ti mette in mano un mezzo futuro, e questo sarà Però ovviamente c'è questo scoglio e deve passare, perché questo è il discorso, scoglio, Salisburgo da passare Dopodiché è un sorteggio buono, allora il Milan può andare avanti Per quanto riguarda le prestazioni, benissimo, Leao, mi è piaciuto Tonali, mi sono piaciuti davvero un po' tutti Hernandez, due, tre cose le ha fatte, molto, 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 davvero molto meno decatelere Molto meno decatelere, perché una partita, beh, con la Dinamo Zagabria che non è neanche in forma Fai questa prestazione che non si capisce davvero, un pallone a uno, un passaggio, una cosa Se hai il talento, non lo so, io oggi ho fatto un video dove lo paragonavo a Correa E comunque dicevo non bene di questo giocatore, sempre educatamente E sono stato attaccato come sempre dai milanisti, come sempre, non tanti 5, 6, 7, 8, oh no, ma che dici, ma assolutamente, ma di qua, perché sei interista No, è perché io sinceramente su questo giocatore non ci credo Dopo magari un altro Leao e un altro Tonali, fate un po' voi, un problema vostro, non un problema mio Però tutto bene per il Milan, l'unica cosa effettivamente che non ha convinto La prestazione di questo giocatore, ma per il resto Milan è vicinissimo agli ottavi Ciao a tutti ragazzi, questo è il canale YouTube Calcio più bello d'Italia Ci vediamo domani, ciao